Musica Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Telemolise che apriamo parlando di automobilismo Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki ha vinto lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini secondo appuntamento valido per il campionato italiano di specialità per il campione campano decisiva la seconda salita dove al termine delle 16 postazioni di rallentamento ha fermato il tempo a 2,26 e 68 centesimi per il campione italiano assoluto Slalom in carica un successo che gli ha permesso di riscattare il passo falso della gara d'esordio a Rocca di Novare in Sicilia dove Venanzio ha chiuso al nono posto lungo le curve della Gildonese seconda piazza per il giovane pilota messinese Emanuele Schillace anche lui come Venanzio al via della competizione su una Radical SR4 Suzuki anche lui sul podio con il tempo della seconda manche per il driver siciliano primo posto in classifica assoluta di campionato grazie al successo nella prima tappa e al secondo posto conquistato ieri a Campobasso a completare un podio interamente di Radical Michele Puglisi autore di una gara in crescendo conclusasi con il tempo di 2,27 e 39 centesimi fatta registrare nella terza salita solo quarto il sei volte campione italiano della specialità e padrone di casa Fabio Emanuele a bordo della sua Osella Pia 9,90 Alfa Romeo alle sue spalle Luigi Vinaccio quinto assoluto anche lui su Osella Pia 9,90 con motore Honda ha preceduto in classifica le Radical SR4 Suzuki di Gianluca Miccio e Giuseppe Palumbo una manifestazione che ha contato 90 iscritti alla Kermess di cui 84 verificati numeri importanti che testimoniano l'attenzione che i piloti di tutta Italia rivolgono verso la gara organizzata dalla Cimolise una manifestazione sportiva ma anche il ricordo lo slalom città di Campobasso è dedicato a Gianluca Battistini un ragazzo che amava le quattro ruote e che ci ha lasciato troppo presto prossimo appuntamento del tricolore in Sicilia ad Erice per la terza tappa del calendario in programma domenica 13 giugno La Cimolise dopo il forfè dello scorso anno non ha voluto rinunciare allo slalom del capoluogo ancora una volta a tappa del campionato italiano di specialità Luigi Di Marzo presidente dell'automobile club Molise è andato in archivio anche la 28esima edizione dello slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini un grande successo di pubblico e di partecipanti 90 partecipanti in gara davvero un grande successo Sì devo dire che nonostante le difficoltà legate al covid tant'è che fino a circa un mese fa eravamo in dubbio se farlo o meno il 28esimo slalom città di Campobasso Poi insomma abbiamo deciso di farlo e siamo davvero soddisfatti Sì come hai detto 90 equipaggi, grandi, gran belle macchine, grande competizione se non sbaglio i primi 4 in 9 decimi quindi insomma davvero entusiasmante Al via tutti i big del campionato italiano, questa ricordiamo è la seconda tappa del campionato italiano dopo quella di Rocca Novara in Sicilia Peccato per Fabio Emanuele che era secondo dopo la seconda mance però dopo c'è stata questa penalità ha toccato un conetto e quindi alla fine l'ha spuntata Venanzio che è il campione in carica italiano quindi diciamo è stato battuto dal campione in carica Beh sì tra loro c'è sempre stata, sono anni che c'è grande competizione Fabio il pilota di casa purtroppo sì ha preso su un birillo, mi ha appena raccontato e vabbè può succedere Complimenti a Venanzio che si conferma essere un grande pilota L'importante per l'ACI è essere presente, non era facile dopo l'anno scorso che non è stato disputato questo slalom per motivi di pandemia, il campionato italiano è stato ridotto con l'eliminazione di alcune tappe è stato importante soprattutto quindi l'ACI ha mostrato la propria vicinanza, si è fatto di fare pronta e soprattutto era importante dare un segnale perché questo slalom è importante per la città di Campobasso muove tante persone, tanti collaboratori, tanti volontari Sì è un evento insomma ormai abbiamo già detto da 28 anni e sarebbe stato davvero un peccato interrompere questa tradizione e sì è una gara davvero insomma vengono da tutta Italia a correre qui perché è ben organizzata perché il percorso piace, i piloti si divertono e ormai è un must Ed ora spostiamoci al calcio, campionato di Serie D, Girone F, vediamo risultati e classifica Alba Longa, Olimpia Ionese 3 a 0, Pinedo, Montegiorgio 1 a 0 Giulianova, Campobasso 0 a 1, Rinviata, Recanatese, Castelenovo, Mano, Rietti, Castelfidardo 1 a 0 Sant'Elpidio, Matese 0 a 1, Fiugi, Aprile a 2 a 2, Tolentino, Notaresco 0 a 2, Vasto Girardi, Vastese 2 ad 1 In testa c'è il Campobasso 64, segue a 59 il Notaresco, 49 per l'Alba Longa, 48 il Mattese, 46 il Pineto, 45 Castelfidardo, Vomano 43, 42 Recanatese, Montegiorgio, Rietti 40, Vasto Girardi 39, 36 per l'Avastese Aprilia 35, Fiugi e Tolentino 33, 28 Giulianova, retrocesse nel campionato regionale di competenzo Limpianionese a quota 8, Sant'Elpidio quota 7 Un gol di Rossetti è bastato al Campobasso per avere la meglio sul Real Giulianova In una giornata estiva il Fadini di Giulianova consegna ai Lupi il diciannovesimo sorriso stagionale Decide il quarto gol di Rossetti con la maglia del Campobasso L'attaccante di Avellino di fatto regala ben 9 punti alla squadra Uno scorre davvero rilevante per il Campobasso, squalificati Cudini ed Antoniozzi In panchina va Ciccioni, originario proprio di Giulianova, tecnico dei portieri Anche Bitetto dei Giuliesi è squalificato Al settimo Cogliati è lanciato a rete ostacolato prima da Ferrini, poi dal portiere Giuliese Mora Ma grossa occasione per l'attaccante ospite La partita si accende al tredicesimo Mancino a lato di Di Domenico Antonio Su passaggio di Candellori Mentre al diciassettesimo dopo cross di Tedone da destra stacco imperioso di Paudice È risposta davvero da applausi di Raccichini che salva la propria porta I Giuliesi insistono Al ventesimo dopo lancio dalle retrovie scivola dal mazzi Paudice Si produce in un tocco sotto che non beffa il portiere ospite per bravura di quest'ultimo In una partita dai ritmi buoni a provarci in solitario Al ventottesimo è Fabriani che si porta in area Mette al centro dove Ferrini è provvidenziale a spazzare palla Nel finale di gara un'occasione a testa con il tiro di Cipriani Del quarantunesimo bloccato da Raccichini Ed un angolo per il rosso-blu del quarantatreesimo Che Vitali non riesce a sfruttare a dovere La palla è a lato, proprio alcune urla del tecnico Cudini in tribuna Sono rivolte a Vitali, invitato ad inserirsi Più spesso si va al riposo con un parziale equo Con le immagini di Francesco Di Rienzo Eccoci al secondo tempo nel campo basso da subito Fuori di Domenico Antonio dentro Rossetti Il neo è entrato a un sussulto dopo soli 30 secondi Quando entra in area conclude con una deviazione in corner Della difesa di casa Quasi al terzo, sempre Rossetti a dipingere un traversone Su cui non arriva Vitali Dopo qualche secondo da Rossetti a Cogliati Che dal fondo mette al centro Ma nessuno dei suoi compagni è pronto a deviare in rete Quasi al sesto, dopo un triangolo al limite Cogliati se ne può andare verso la porta Contrastato, Mora para con il braccio Il campo basso sembra avere un'altra verve All'undicesimo sempre Cogliati in diagonale Ma Mora para abbastanza agevolmente Il campo basso coglie i frutti del predominio Al diciottesimo quando nello stretto scambiano Cogliati e Rossetti Quest'ultimo è bravo a far partire un destro Di rara precisione in un fazzoletto di terra Forse deviato da un avversario in maniera impercettibile Sarà anche il gol partita Sostituzione azzeccata da parte dei tecnici del campo basso Che tuttavia non si ferma qui Dopo il gol ancora rosso-blu sul tacquino Al venturesimo con un cross di Cogliati Un'attiva bontà che trova di fronte a sé Un intervento prodigioso di Mora L'azione non si arresta E vede il forcing campo bassano Che prosegue con un tiro di là A Ducer sorvola Di pochissimo la traversa Al ventiseiesimo è Cogliati Che decide di fare tutto da solo E di iniziare un contropiede Davvero spettacolare Più di 30 metri Palla al piede Poi tiro Fra le braccia di Mora Al trentatreesimo Grandestro di Candellò Riparata di Mora Riprende Rossetti Che va con un tiro a giro Che sfiora la traversa Ospiti vicinissimi al bis Nel campo basso Dentro Tengorang Al posto di Ladu Siamo nei minuti finali Al quarantaquattresimo Tengorang E bravissimo A recuperare palla In area Viene ostacolato da Cuchi Neoentrato del Giulianova Secondo l'arbitro Il giocatore ospite Simula E merita Il cartellino giallo Si fa male Fabriani Deve entrare Martino Al suo posto Comandati cinque minuti Di recupero Al nonno La conclusione di Paudice Parata ma con qualche brivido Da parte di Raccichini Che recupera la sfera Sulla linea di porta Ancora Giuliesi Al novantatreesimo Con un'autentica Botta di Massetti Su punizione Con la palla Che colpisce il palo E poi la schiena Di Raccichini E finisce in calcio E finisce in calcio d'angolo Sfortunato Il Giulianova In questa circostanza Termina con un abbraccio Caloroso e stretto Fra i giocatori rosso-blu Che sentono L'obiettivo Del ritorno Nel professionismo Sempre più vicino Mercoledì Recupero In quel di Vasto Girardi Come testimoniano le immagini Intorno alle 21.30 La squadra si è incontrata Proprio davanti ai cancelli Di Selvapiana Con un gruppo di tifosi E proprio lì Sono partiti Dei festeggiamenti Anticipati Rispetto all'obiettivo Stagionale Che come detto Dopo la vittoria Di ieri a Giulianova Appare sempre più vicino Per lo scontro Al vertice Successo Del notaresco A Tolentino Il notaresco fa il suo Ed espugna il della vittoria Di Tolentino Grazie ad una rete per tempo La compagine Il presidente di Giovanni In terra marchigiana Ha conquistato la vittoria Numero 17 In stagione La nona in esterna Banegas e Mancini I marcatori Tra i cremisi Maglia da titolare Per gli ex Rucci e Padovani Solo panchina Per l'altro Ex rosso-blu Minella Recuperi importanti Per mister Epifani Sostituito in panchina Ancora dal vice Falasca Di nuovo nell'undici Titolare Banegas Assente dal primo Riescorso Si rivedono in panchina Il talentuoso Cancelli e Marcelli Quest'ultimo Alla prima convocazione Stagionale Tornato a disposizione Dopo il lungo infortunio E Tortelli Al minuto 8 A creare il primo pericolo Per la difesa abruzzese Il suo colpo di testa Termina di poco sul fondo E ancora la formazione Cremisi A rendersi pericolosa Corre il minuto 20 Quando Padovani Si invola verso la porta Prodigioso Il recupero difensivo Di Massarotti Che rimonta L'attaccante di casa E sventa la minaccia Due giri di lancette Più tardi L'occasione capita a Lattarulo Che non riesce ad impattare Però il cross Proveniente dalla destra Il rosso-blu Del presidente Di Giovanni Si buttano in avanti Lasciando inevitabilmente Spazio alla ripartenza Del Tolentino Che ci prova ancora Al ventiduesimo Con Pagliari Sciba attento Ed al ventiquattresimo Con un colpo di testa Di Cicconetti Pallata di poco Sulla trasversale Passata la mezz'ora Gli ospiti Coprono meglio il campo E dal trentottesimo Passano Lattarulo è a terra Dopo un contrasto Con Laborino Talesco decide di proseguire Vanegas prende palla Si avvicina all'aria E lascia partire un tracciante Che si infila Alle spalle di Giorgi 0 a 1 Con il quattordicesimo Gollo in campionato Per il Pocio Argentino La sua assenza Si è fatta sentire Davvero tanto Per la squadra Notareschina Prima del riposo La squadra russo-blu Potrebbe raddoppiare Ma Capitan Ruggeri Salva sul tiro di a quadro Al minuto 40 Le immagini di Loris E Bennato Ci portano alla ripresa Che resta sempre viva Ed intensa Ma con meno occasioni Da rete Rispetto alla prima frazione Ed infatti Bisogna attendere il ventesimo Per annotare qualcosa Con il colpo di testa Di Padovani Che termina sul fondo Di un niente I ritmi alla lunga cala Nonostante i cambi operati Dai due tecnici Il notaresco torna a rendersi Pericoloso al trentacinquesimo Sugli sviluppi di un angolo Giorgi è miracoloso Su Capitan Speranza Poi la girata di Gallo Termina alta Al trentottesimo La squadra guidata da Falasca Chiude i conti A quadro calciano punizione E pesca Mancini Che sul filo del fuorigioco Elude la difesa di casa E di testa Beffa Giorgi Per il suo terzo gol in campionato E la rete Che nonostante i cinque minuti Di recupero Certifica la preziosa vittoria Del notaresco Anche se prima del triplice fischio C'è da segnalare La doppia espulsione Una per parte Per Conti e Mancini Per reciproche scorrettezza Pronto riscatto Del Vasto Girardi Che al di Tella Ha ospitato e superato La Vastesa Il Vasto Girardi Torna al successo Battendo due a uno La Vastese Con una prestazione Di sostanza E qualità Prosperi Tiene a riposo Mercai Per un problema La coscia E manda in campo Fioretti Al suo posto Designata Per la regolarità Del confronto È la signora Graziella Pirriatore Di Bologna Il primo squillo È di marca locale Con guida Che si gira E tira Bocca nera Blocca in due tempi Al diciannovesimo Il Vasto Girardi La sblocca Di Filippo Atterra Fioretti In area Per il direttore Di gara È penalty Dal dischetto Si presenta Fioretti Che spiazza Bocca nera Vasto Girardi Uno Vastese Zero Neanche il tempo Di festeggiare Che i locali Restano in dieci Mamona Mette il turbo E si invola Verso la porta Di guerra Pacciardi Lo ferma Con le cattive Al limite Dell'area di rigore E viene espulso Per fallo Da ultimo uomo Locale in dieci La punizione seguente Calciata Dallo stesso Numero dieci Biancorosso Non crea problemi All'attento guerra Minuto ventinove Mamona Crossa da destra Martinello Fa uno a uno Ma il fischietto Bolognese Annulla Per fuorigioco Quattro minuti Dopo Lo stesso attaccante Ex campo basso Spedisce al lato Da buona posizione Il vasto girardi Quando affonda Fa male E trova il raddoppio Grande azione Di Salatino Che va via Diversi avversari E conclude in diagonale Palla sul palo Sulla respinta E guida Il più lesso Di tutti A firmare Il 2 a 0 Con il montaggio Di Loreto Cerasuolo Siamo nella ripresa Passa un minuto E la vastese Va vicino al gol Corner Di Obodo Respinto dalla difesa Di casa Sfera a Mamona Che conclude Debolmente Guerra para Dopo il palo Di Raucci Da distanza siderale Per il vasto girardi La formazione Di D'Adderio Accorcia le distanze Mamona Controlla In area di rigore Si gira e tira Cuoio sul palo Con diallo Che è il più lesso Di tutti E lo spinge Oltre la linea Vasto girardi 2 Vastese 1 A questo punto Sul traversone Di Diallo Martínez Ci prova al volo La sfera Si spegne Sull'esterno Della rete Dando l'illusione Ottica del gol Il vasto girardi Esulta per i tre punti Conquistati E si proietta Al derby di mercoledì Con il campo basso Per la vastese L'occasione Del riscatto Passa dalla sfida Contro il Pineto Vittoria di misura Invece Del Matese In casa Del già retrocesso Porto Sant'Elpidio Come più volte Successo In questa maledetta Stagione Il Porto Sant'Elpidio Raccoglie solo I complimenti Mentre gli avversari Vanno i punti Il Matese Vince 1-0 Nell'unica Vera occasione Creata Nei 90 minuti Di gara Più recupero Tra le due formazioni Ci sono 40 punti Di differenza In classifica Marchigiani Già retrocessi Campani In piena corsa Playoff Eppure a fare la partita E anche con interessanti Trame di gioco Sono stati I baby di Ottavio Palladini Che sin dalle primissime battute Mettono sotto gli avversari Che però Passano in avvantaggio Al quarto minuto Sugli sviluppi Di un corner Vodopivec Lasciato colpevolmente Solo di colpire in area Insacca la palla Che determinerà Poi il risultato Da questo momento in poi La partita la farà Il Porto Sant'Empidio Che al nono avrebbe Già l'occasione Di riacciuffare il pari Con una bella giocata Di Spagna Che recupera la sfera Sulla linea di fondo Ma poi sciupa L'assist per il compagno Spagna conferma il suo momento Di forma Ma è impreciso nel tiro Poi l'episodio Che farà molto discutere Albanese Rifila una manata Spagna In piena area di rigore Sotto gli occhi Dell'arbitro Pessima la direzione Di Natilla Di Molfetta Sarebbe rigore Il fischietto pugliese Vede però un fallo Dell'attaccante Biancazzurro Che verrà Ammonito assieme Ad Albanese Per reciproche Scorrettezze A dieci minuti Dal riposo Lancio lungo Per Spagna Palla a lato Occasione anche Per Alessio Palladini Nella ripresa Il cliché non cambia Padroni di casa Che dominano Sulla formazione Di Corrado Urbano Che si affida A qualche ripartenza Senza grandi convinzioni Occasione anche Per Gelsi Nelle battute finali Della gara E per Carissimi Entrato poco prima Il cui tiro angolato Viene parato Da un attento Kuzmanovic Finisce la gara Con qualche momento Di tensione Con Palladini Che chiede spiegazioni A qualche giocatore Del Matese Che durante l'incontro Avrebbe preso in giro I ragazzi Del Porto Sant'Elpidio Negli spogliatoi Tornerà poi la calma La sconfitta Per 3 a 0 In casa Della Cinzia Albalonga Ha decretato La retrocessione Nel campionato Di eccellenza Per l'Olimpia Agnonese Per i padroni di casa In rete Cardarella Traore e D'Agostino Per il 3 a 0 Con il quale L'Albalonga Ha superato L'Agnone Il Pineto Invece Ha ospitato E superato Il Monte Giorgio Prosegue La scalata Playoff Del Pineto Che dopo il successo Nell'infrasettimanale Con il Vasto Girardi Fa valere il fattore campo Superando di misura Al Mariani Pavone Il Monte Giorgio E arrivando così Al quinto posto In classifica L'ultimo utile Proprio per la seconda fase Squadra abruzzese In campo Con il 3-4-3 Consueto Dalla destra Dalla destra di Misin Che costringe Mercorelli Alla respinta Gara giocata Su buoni ritmi Ma con poche emozioni E con le difese A sovrastare I due attacchi Bisogna così Arrivare al 38esimo minuto Con una occasione Ghiottissima Per il Pineto E con Minnozzi Che sotto rete Non riesce A mettere il pallone Alle spalle Di Zizzania Si disperano I biancazzurri Con la gara Che resta Sullo 0-0 Ma che finalmente Si ravviva Al 42esimo C'è infatti Un pallone perso Dal Pineto Con la sfera Che arriva Mandolesi Che cerca il gol Della domenica Mettendo il pallone Di un soffio fuori Passano pochi secondi E si rivede ancora Il Pineto Al 43esimo Con Minincleri Che in mezza rovesciata Non inquadra Lo specchio della porta Nella ripresa Al settimo minuto Bertolo Per la formazione abruzzese Per poco Non gioca Un brutto scherzo All'ottavo Minnozzi Fa gridare al gol La formazione di casa Ma la difesa marchigiana Riesce a salvarsi In qualche modo Al terzo tentativo La squadra di Pomante Passa Grazia Romano Che di testa Salta più in alto di tutti Segnando il gol Del meritato vantaggio locale Pineto 1 Montegiorgio 0 E Abruzzesi Avanti Al 23esimo Però c'è da segnalare Il colpo di testa Per il Montegiorgio Del non entrato Santoro Con Mercorelli Che è attento Gara vivace Con Minnozzi Che al 25esimo Regala su punizione Solo l'illusione del gol Per la formazione abruzzese Con la palla Che però esce fuori Al 34esimo Lupoli Per il Montegiorgio Di testa Su cross Di Misin Fa 1-1 Ma Zoppi di Firenze Annulla per fuorigioco Su segnalazione Del primo assistente Soffre un po' La pressione La squadra di Pomante Che sembra anche Accusare il caldo Il match Resta così in bilico Visto che al 42esimo Della Quercia Tocca il pallone In area con la mano Dopo essere stato Vistosamente spinto Il direttore di gara Indica fra le proteste Abruzzesi Il dischetto Con Mercorelli Che ipnotizza Lupoli Respingendo il rigore Festa grande In Casa Bianca Azzurra Con il vantaggio Del Pineto Che resiste E con il Montegiorgio Che non ci sta E che al 44esimo In mischia In area abruzzese Crea un altro pericolo Poi 5 minuti Di recupero E la festa Del Pineto Per 3 punti Dal valore inestimabile Pallavolo femminile La capolista Cepagatti Ha ospitato E superato 3-7-0 La nuova Pallavolo Campobasso Le rosso-blu Di Raffaele Di Cesare Torneranno in campo Venerdì In Casa del Loreto Per il torneo Maschile Ennesima vittoria Dell'Energy Time Cus Molise Che si è imposta 25-15 25-10 E 25-11 In Casa dell'Ortona La prossima gara Per i ragazzi Di Mariano Maniscalco Potrebbe essere decisiva Per l'accesso In Serie B Il calendario Prevede il 5 giugno E la derby In Casa del Termoli Torniamo al calcio Torneo regionale Di eccellenza Vediamo risultati E classifica Benafro Sesto Campano 1-0 Arora Alto Casertano Isernia 2-1 E San Leucio Voltornia Boiano 1-4 Ha riposato il Termoli In testa A punteggio pieno E quindi A quota 12 punti Troviamo Arora Alto Casertano In testa A punteggio pieno Arora Alto Casertano A quota 12 9 punti Per Termoli Benafro 7 Isernia E Boiano 0-6 Campano E San Leucio All'Aurora Alto Casertano Il big match Contro Il città Di Isernia Scontro tra Titani Al comunale Di Capriati Al Volturno Tra l'Aurora Alto Casertano Ed il città Di Isernia Finale anticipata Sarà soltanto Il tempo A rivelarcelo Attraverso il campo Giudice Insindacabile Al momento Possiamo considerarlo Un assaggio Della fase finale Una sfida Che si attendeva Da tempo Mai disputata Per le avversità Delle quali Tutti siamo a conoscenza Per la prodo In quarta serie Sarà importante Conservare muscoli duri E polpacci combattivi Designata una direzione Da fuori regione Il fischietto modenese Del signor Benevelli Sette minuti Offensivi Biancorossi Iniziativa di Pozziello Collaborazione di Denny Tocco di ritorno Per il numero 99 Che la gira Tra le braccia Di Amoroso Risponde Al Isernia Con devizia Dalla destra Che dà un occhio Al centro Palone che attraversa Tutta l'area di rigore Dopo il contatto Tra Vitale e Valefuoco Dal corner Che ne segue Il taglio Sul primo palo Di Petrone Il pallone Che sorvola Il montante Al quarto d'ora Protestano i locali Per un probabile Tocco galeotto Di Di Leonardo In area Il direttore di gara Non ravvisa Torti al regolamento Ventunesimo Dai piedi di Valefuoco Parte l'azione Si allunga per Pozziello Che impiega Tutte le sue 46 Primavera Nell'indirizzare la gara Sul binario Alto Casertano Dopo aver saltato Il portiere Siamo sull'1-0 La borlime Della capolista Che rincara la dose A distanza di 4 minuti Proprio l'ex più rumoroso Nicola Panico Lato corto destro In crocia Sul palo opposto Dove non può arrivare Amoroso Ed è 2-0 Un 1-2 Devastante Dei Biancorossi Scuote la testa Lisernia Petrone La lavora bene per Mingione Che malgrado la buona coordinazione E la giusta mira Trova in paglia La risposta pronta Ancora Petrone Al trentasettesimo Attua la sua specialità Ingresso in serpentina Nei 16 metri Alla ricerca del penalty Ma viene etichettato Come simulatore Dal direttore di gara Che lo sanziona Con il giallo Si giunge all'intervallo Con la prima della classe In doppio vantaggio Mister Di Renzo Estromette Gibi e Vitale E lancia Lombardi e Vitelli Per appesantire Il reparto avanzato Secondo tempo 1-40 A gran voce Gli ospiti chiedono La massima punizione Senza però essere accontentati Allora l'Aurora Alto Casertano Trasforma l'azione Da difensiva in offensiva Con Denny Che trova però La risposta del portiere Bianco Celeste Al sesto Petrone Trova il varco giusto Per movimentare Lombardi Paglia Blocca in uscita Ancora Lombardi Intorno al quarto d'ora Lanciato a rete Viene rimontato da Cavalini L'attaccante Termina anche a terra Sull'uscita del portiere Al venticinquesimo Fallo di mani Di Davide Vallefuoco Già ammonito Viene graziato Nella circostanza Dall'arbitro Al ventisettesimo E viva Lisernia Pallone al centro Sponda di Lombardi Vitelli Con freddezza Supera paglia E di mezzo allo svantaggio Rientra in partita così Il team di Di Rienzo Che ha la chance Proprio con Lombardi Che da posizione defilata Non riesce però a pungere Con un destro a giro Ritorna sul pezzo L'alto casertano Corner dalla destra Serie di batti e ribatti Dice l'ultima Vallefuoco Che trova in amoroso Un valido oppositore Al trentaquattresimo Riecco Lisernia Con Di Leonardo Il centrale di difesa In zucca Sulla corsa Il portiere locale Arpiona il pallone Nel finale si sbilancia In avanti Anche Sabatino Forse sgambettato In area locale Dopo sei di recupero Può festeggiare L'alto casertano A punteggio pieno Al comando Della classifica Il città di Sernia Si giocherà la qualificazione Nei prossimi derby Rispettivamente Con Termoli e Venafro In chiusura Parliamo del CUS Molise Il centro universitario sportivo Del Molise In vista del campus estivo Ha pensato di fare Un ulteriore passo Verso le famiglie Proponendo un bando Per l'assegnazione Di 30 voucher Che danno diritto A frequentare il campus Per due settimane Pagando solo La quota di iscrizione Di 25 euro Per partecipare al bando Bisogna avere Un in sé Non superiore A 20 mila euro I 15 giorni Di partecipazione Possono essere scelti Nel periodo Che va Dal 7 di giugno Fino al 31 di agosto In questi giorni Le escursioni Servizi aggiuntivi Previsti Saranno compresi Nel voucher Ebbene Questa notizia Va a chiudere L'informazione sportiva Di oggi Io vi ringrazio Per aver scelto Ancora una volta Il Tg Sport Vi auguro un buon proseguimento Con le nostre trasmissioni Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti